A 100 giorni dall'inizio del nuovo modello Bauschparen, risparmio casa, possiamo constatare che funziona davvero bene, la richiesta c'è. Con questo modello stiamo collegando i vantaggi fiscali che uno ha con i sistemi di previdenza aggiuntiva, alla possibilità di accedere a mutui agevolati, un tasso di 1,5% per la durata di 20 anni. Sono stati adesso 71 certificati che sono stati rilasciati per un volume di 15 milioni di euro, cioè vuol dire che la richiesta c'è, che il sistema funziona e sono buone notizie per la provincia ma soprattutto per i cittadini.